Ciao bimbi! Oggi leggiamo il secondo capitolo della serie Corna Bicorna. Si intitola La vendetta di Corna Bicorna. Spero vi piaccia! Buon ascolto! Era notte e a casa di Pietro tutto sembrava calmo e tranquillo. E invece, laggiù dalle parti del bagno, un piccolo rumore. Forse per mille cornacchie ha il furfante, ha lo scellerato, ha lo scaravaggio quattro occhi, ha osato gettarmi nel gabinetto, a me la sublime, la magnifica, la grandiosa Corna Bicorna. Oh, me la pagherà cara quella piccola palla di vermi! Sì, mi occuperò seriamente di te, tesoruccio mio! Poco dopo, a notte fonda, Pietro si alzò dal letto. Oh, uffa! pensò. Mi scappa ancora la pipì! In corridoio, la porta del bagno era socchiusa e delle impronte bagnate andavano fino in cucina. Eppure il papà e la mamma dormono tranquilli e il nonno e la nonna russano placidamente. Strano, strano! pensò Pietro, aprendo la porta della cucina. Pietro ispezionò la credenza. Nessuno. Aprì l'armadio a muro. Nessuno. Controllò tutti i cassetti. Nessuno. Allora, caccola di zanzara, cerchi qualcuno? Pietro sussultò. La strega corna bicorna lo guardò severamente. Ah, ma scalzone con gli occhiali, credevi di esserti sbarazzato di me? C'è da credere veramente che tu mi abbia preso per una stupida? Ebbene sì, signora strega, rispose Pietro sorridendo. Piccolo impertinente! Ti spiaccicherò, ti schiaccerò, ti spappolerò! Schiacciarmi? Ma se sei piccola come una cacchina di libellula! Come? Microscopica come una pipì di moscerino! Come? Rattrappita come un vecchio pelo del naso! Come? Furiosa, corna bicorna sembrava ribollire come un vecchio pentolone. Poi gridò VENDETTA! 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 E cominciò a crescere, crescere, crescere così tanto che Pietro si sentì di colpo molto piccolo. La strega allungò poi un dito verso Pietro che si ritrovò immobilizzato sulla sedia, le due braccia incollate al tavolo. E adesso che ne dici, cervellino di gallina, di una buona minestra fatta alla mia maniera? No, non voglio! Potrebbe trasformarti... Vediamo... In un tacchino? No, non voglio! In una lumaca? No, non voglio! In una zucca! Sì, proprio così! In una zucca! No, non voglio! Beh, sbagli, testa di pollo! La zucca è deliziosa, talmente deliziosa che i tuoi genitori potrebbero affettarti, cucinarti e... DIVORARTI! No, non voglio! Troppo tardi, faccia di lucertola! Ne abbiamo parlato abbastanza! La geniale corna-bicorna deve mettersi al lavoro! E così, corna-bicorna fece apparire sulla tavola un sacco di utensili misteriosi e di boccette strane! Poi cominciò a cucinare, canticchiando Carne trita di lombrico, peli di dromedario, muffa di formaggio e tritoni trifolati! BLEEEE! Fece Pietro con una smorfia, ma corna-bicorna continuò Lingue di rana, sputazzi di ranocchio, una scorzetta di rospaccio e un grazioso ramarro marrone! BLEEEE! Ma è disgustoso! Sì! rispose corna-bicorna gongolante, deliziosamente disgustoso! Poi tappò il naso di Pietro perché aprisse la bocca e avvicinò l'enorme cucchiaio. Ma smetta! bofonchiò Pietro. La tua minestra non è una vera minestra o una strega! Non è abbastanza disgustosa! Ma cosa dici? Tuonò corna-bicorna indignata. Io sono una campionessa di minestre disgustose! Invece no! rispose Pietro facendo finta di pensare. Mancano i calli dei tuoi piedoni! Ah sì? Del sugo di vecchi scarponi! Ah sì? Dei peli di bassettoni! Ah sì? Sì, proprio così! Continuò argutamente Pietro. Prova ad assaggiarla tu stessa! E vedrai! E corna-bicorna, confusa, assaggiò con attenzione la sua minestra. All'improvviso diventò tutta rossa e cominciò prima a rattrappirsi e poi ad arrotondarsi. Per mille marmitte! Me l'ha fatta ancora una volta! Mi sto trasformizzuccando! Aiuto! Gemette la strega con un grido soffocato. Ben ti sta, vecchia vipera! E ora fuori! A prendere un po' d'aria! Pietro trasportò corna-zuccorna fino alla finestra e la fece rotolare giù in giardino. Il giorno dopo, Pietro fu svegliato dalla voce della mamma. Venite tutti a vedere! È successo qualcosa di straordinario! Una zucca! È cresciuta una zucca in giardino! Ha una buffissima faccia! Notò il papà di Pietro. Sembra quasi che ci stia guardando! Aggiunse il nonno. Se potesse parlare, scommetto che lo farebbe! Commentò la nonna. Beh, faccia o non faccia, sarà un'eccellente minestra per questa sera. Speriamo che il nostro piccolo Pietro voglia assaggiarne un po'. Vero, tesoro? No, non voglio! Fine, bimbi! Spero vi sia piaciuto. Al prossimo libro! Ciao!